Il 20% degli italiani non riceve alcun invito a fare screening. E dei cittadini che vengono coinvolti, uno su tre ha difficoltà a partecipare ai controlli e uno su cinque rinuncia a causa di orari incompatibili, liste d'attesa e difficoltà logistiche del Servizio Sanitario Nazionale. E' questo quanto emerge dai dati del barometro del Patient Engagement, la prima indagine nazionale sulla percezione del coinvolgimento degli italiani nel proprio percorso di cura realizzata da Ella Globe e presentata all'ASL di Roma. I questionarii sono sottoposti ad un campione di circa 3.000 persone in tutte le regioni. Nella ricerca spicca l'87% dei cittadini che afferma di non essere mai stato coinvolto in indagini sulla qualità del servizio di ospedali e ASL a fronte di un 35% che ha trovato difficile prenotare esami o visite. Le difficoltà organizzative segnalate evidenziano la necessità di rivedere i modelli di erogazione degli screening prevedendo la possibilità di organizzare appuntamenti flessibili, luoghi prossimi al domicilio o al lavoro della popolazione target, commenta Caterina Rizzo, ordinario di igiene all'azienda ospedaliera universitaria Pisana. L'indagine inoltre mostra anche che il 22% dei pazienti che dichiara di non venire coinvolto dal medico nelle decisioni sulla propria salute e un 40% che invece viene coinvolto saltuariamente. Ma, spiega Matteo Scortichini, ricercatore in valutazione economica e HTA presso l'Università Roma Tor Vergata, quando i pazienti sono informati e coinvolti nelle decisioni terapeutiche, il tasso di adesione alle terapie e il rispetto delle prescrizioni migliorano, riducendo il ricovero e gli accessi al pronto soccorso. Complessivamente, conclude Davide Caffiero, managing director di Ela Globe, emerge una sanità che si preoccupa poco di coinvolgere i cittadini, di ascoltare le proposte di miglioramento. Prescrive visite ed esami, suggerisce screening, ma poi in molti casi abbandona il paziente a se stesso, senza metterlo in condizione di seguire quelle indicazioni.